questo è l'appuntamento con l'oroscopo che parte subito con la riete solo caffè e biscotti vi daranno la forza per dare un senso al vostro mondo oggi del resto il sonno perso è perso per sempre un po di relax e solo così la vostra giornata ritroverà la giusta energia toro il vostro partner se c'è vi amerà più che mai qualcuno potrebbe innamorarsi invece di voi se siete single l'umore è basso e non avete tanta voglia di parlare gemelli anche se le preoccupazioni non mancano potete imparare a essere positivi nonostante tutto ricordate che il weekend è anche uno stato d'animo il giorno in cui ci si ferma ci si dedica agli affetti e ci si coccola il più possibile cancro una settimana è passata e avrete come la sensazione di aver perso qualcosa lungo la strada forse delle persone o anche un po voi stessi fate ordine nel cuore nella mente e recuperate leone dovete dedicare tempo e forse prepararvi psicologicamente al rientro al lavoro domenica di puro relax e magari un po di shopping potrebbe gratificarvi oggi staccate con il mondo provate ad assecondare i vostri desideri più semplici vergine anche se le vacanze vi sembrano lontane lontanissime e anche se vorreste fermarvi un attimo forse c'è un progetto un'idea che vi sfiora la mente bilancia non avete gran voglia di uscire di vedere gente capita talvolta di voler star da soli con se stessi forse questa sosta forzata vi aiuterà a rifare ordine nella vostra vita scorpione domenica sotto le lenzuola grande passionalità e intesa grande entusiasmo ed edizione al partner seguite l'istinto il piacere il desiderio fate quello che vi rende felice oggi sagittario sentite forte il bisogno di uscire di respirare a pieni polmoni di immergervi nella natura avete voglia e bisogno di stare all'aperto e allora vestitevi come si deve e fatevi una passeggiata vi farà molto bene capricorno gli impegni familiari prenderanno inesorabilmente il sopravvento ma provate comunque ritagliare del tempo per voi stessi se ci riuscite magari in serata lasciando da parte gli amici e dedicandovi veramente soltanto a voi stessi acquario potrebbe accadere qualcosa che vi lascerà senza parole con un carico di emozioni non indifferente potrebbe essere l'amore che arriva in maniera inaspettata se siete single pesci lentezza è domenica fate tutto secondo i tempi che il vostro corpo e la vostra mente riterranno opportuni non datevi tempi e scadenze almeno oggi il tutto riprenderà per quanto riguarda il lavoro domani quindi non pensateci affatto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti